Vi è un lato più intimo e toccante nella vita di Enzo Cannavale, un lato che ci porta ad esplorare il suo percorso attraverso le sfide e le difficoltà che ha dovuto affrontare. La sua storia è una biografia piena di alti e bassi, una biografia che ci ricorda che il tragico può coesistere con il talento e la passione. Questa è la storia di Enzo Cannavale, un attore che ha affrontato le avversità con coraggio e determinazione, lasciando un'impronta duratura nel cuore di coloro che hanno avuto la fortuna di incontrarlo sul palcoscenico o sullo schermo. Enzo Cannavale è nato il 5 aprile 1928 a Castellammare di Stavia, una cittadina della provincia di Napoli, situata nella regione italiana della Campania. Cresciuto in una famiglia modesta, Enzo trascorse i suoi primi anni di vita immerso nella cultura e nelle tradizioni del Sud Italia. Fin da giovane, Cannavale dimostrò un grande interesse per il mondo dello spettacolo. Il suo talento naturale per l'arte e la recitazione emerse precocemente e già durante l'adolescenza iniziò a esibirsi in spettacoli teatrali locali e feste di quartiere. Queste prime esperienze lo incoraggiarono a perseguire la sua passione per la recitazione. Tuttavia, la sua carriera artistica subì una brusca interruzione a causa della Seconda Guerra Mondiale. Durante il conflitto Enzo fu arruolato nell'esercito italiano e trascorse diversi anni lontano dal mondo dello spettacolo. La guerra rappresentò un periodo difficile e traumatico per lui, ma nonostante ciò riuscì a mantenere viva la sua passione per la recitazione. Dopo la fine della guerra, Cannavale decise di dedicarsi completamente alla sua carriera artistica. Si trasferì a Napoli e si unì a una compagnia teatrale locale, lavorando duramente per perfezionare le sue abilità recitative. Grazie al suo impegno e al suo talento innato, riuscì a emergere come uno dei giovani attori più promettenti della scena teatrale napoletana. Negli anni 50 e 60, Cannavale ha lavorato intensamente nel teatro sia a Napoli che in altre città italiane. La sua abilità nel recitare ruoli comici e drammatici gli ha consentito di conquistare il pubblico e di collaborare con importanti compagnie teatrali. La sua interpretazione appassionata e il suo talento nell'improvvisazione gli hanno fatto guadagnare una solida reputazione come attore di teatro. Negli anni 70, Cannavale ha iniziato a ottenere maggiore visibilità nel cinema. Ha recitato in una serie di film di successo spaziando da commedie a film drammatici. È diventato un volto familiare nel cinema italiano e ha lavorato con importanti registi come Ettore Scola, Luigi Comencini e Giuseppe Tornatore. Il suo ruolo nel film C'eravamo tanto amati, 1974, di Scola è stato particolarmente acclamato dalla critica e dal pubblico. Negli anni 80 e 90, Cannavale ha continuato a ottenere ruoli significativi sia nel cinema che in televisione. È stato particolarmente apprezzato per la sua interpretazione nel film Nuovo Cinema Paradiso, del 1988, di Giuseppe Tornatore, in cui ha interpretato il padre di Antonio. Questo ruolo gli ha valso una nomination al prestigioso premio David di Donatello come migliore attore non protagonista. Oltre al cinema, Cannavale ha lavorato anche in televisione, partecipando a serie di programmi di successo. Ha dimostrato di avere un grande talento comico e ha spesso interpretato personaggi divertenti e memorabili. È diventato un volto noto per il pubblico televisivo italiano e ha consolidato ulteriormente la sua popolarità. La carriera di Enzo Cannavale si è estesa per oltre cinque decenni, durante i quali ha interpretato una vasta gamma di personaggi e ha lasciato un'impronta indelebile nell'industria dello spettacolo italiano. La sua abilità nel passare dal comico al drammatico, unita al suo carisma e alla sua autenticità, lo ha reso uno degli attori più amati e rispettati del suo tempo. Enzo Cannavale è stato un attore molto riservato riguardo alla sua vita privata, quindi le informazioni disponibili sono limitate. Tuttavia si sa che è stato sposato con Carmela Mazzarella, con la quale ha avuto due figli, l'attore e comico Antonio Cannavale e la figlia Rosaria. Enzo Cannavale morì a Napoli il 18 marzo 2011 per attacco cardiaco, all'età di 83 anni. La sua morte ha rappresentato una grande perdita per il mondo dello spettacolo italiano, poiché era uno degli attori più amati e rispettati del paese. La notizia della sua morte ha suscitato grande tristezza e ha generato un'ondata di omaggi da parte di colleghi, ammiratori e fan. La sua eredità artistica è rimasta indimenticabile e molti hanno ricordato il suo talento, la sua versatilità e il suo carisma unici. Nonostante la sua scomparsa, il contributo di Enzo Cannavale all'arte italiana continuerà a vivere attraverso i suoi lavori cinematografici e teatrali. Le sue interpretazioni indimenticabili rimarranno come testimonianza del suo talento e della sua influenza nel panorama dello spettacolo italiano. Attraverso il suo talento e la sua autenticità, Enzo Cannavale ha lasciato un'impronta indelebile nel cinema, nel teatro e nella televisione italiana. Le sue interpretazioni commoventi e le sue performance divertenti hanno toccato il cuore di molte persone, trasmettendo emozioni e lasciando un segno indelebile nella storia dello spettacolo. Concludendo questa storia, voglio invitarti a iscriverti al canale per continuare a esplorare il meraviglioso mondo dell'arte e della cultura. Spero che la vita e la carriera di Enzo Cannavale ti abbiano ispirato e ti abbiano mostrato l'importanza di seguire le proprie passioni e di perseguire i propri sogni.